Oggi giornata di mille appuntamenti, ma finalmente posso concedermi uno spuntino. Mi preparo una ricetta leggera con Philadelphia Benessere senza lattosio. Ah, dimenticavo, prima mi devo allenare. Oggi workout PH, sempre per sentirmi leggero. Iniziamo! E ora che ho terminato il workout mi sono proprio meritato il mio spuntino con Philadelphia Benessere senza lattosio. Et voilà! Il mio crostone con Bressaula, rucola e Philadelphia Benessere senza lattosio. Perfetto per il mio post-workout. Provatelo perché è buonissimo!